arriva a parte la mia faccia da pesce adesso morto vabbè comunque io odio milano continuo a piove sempre ogni giorno basta piove piove comunque stanno arriva a quei due direttamente da bangkok e arrivano tipo verso le due non so se ti anche devi ancora fare altre cose devi ritornare però penso che comunque per adesso siamo quasi quasi per sempre uniti da un amore eterno comunque a parte gli scherzi regà fatemi qualche domanda sta botta rispondo subito perché come sapete gli sblom li faccio solamente con Zoe e Zoe è a Roma quindi non posso farli quindi appena Zoe ritornerà qui a Milano io però faremo molto un'altra volta quando viene una abbiamo avuto tempo anche dei baby mi mancano tantissimo baby Zoe baby Milo baby Zalda baby Ceccia e quattro baby e basta comunque stavo vedendo le fanpage non ci sta una fanpage su baby Jan che facciamo? rimediamo oppure no? a regà vi dico fermate la settimana prossima regà siamo a vedere i filtri che stanno usciti dai Q4 a settimana prossima regà preparate probabilmente e esce Giago ha detto filtri è uno spoiler ah oh ah oh stanno tornati con i due? stanno tornati con i due? ah oh ah tutti i quattro ziani yeah ma regà la situazione è più o meno questa la faccio subito io qua così vabbè si inizia si inizia cioè vabbè ciao 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 regà io smetto di fare i video su youtube tiktok ciao 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 ma regà c'è stata un credit che sta qua al market c'è stata la bibita sua e io sono andato contro l'amore della mia vita regà mi sono innamorato serio la situazione è più o meno questa siamo in india da due giorni e questa è la situazione panico 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 quando mi guardi panico 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 quando riparti vedo lontano mille sfumature che rendono l'attimo quasi mortale ho perso la virginità mi aiuti a trovarla per favore grazie 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 il quattro sta per iniziare a prendere vita quindi tenetevi pronti tutti quanti che sarà qualcosa di vicissima io non faccio l'amore io coltivo i fiori per te ma davvero io non faccio l'amore 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 Grazie a tutti.